Ciao, mi chiamo Paola. Rosso Cuore nasce l'8 dicembre del 2011 e dopo 12 anni di tournée teatrali come costumista e scenografa ho deciso di prima trasferirmi nelle Marche e a un certo punto ho sentito l'urgenza di creare qualcosa che fosse veramente mio. Rosso Cuore è un posto dove vengono concentrate tutte quelle che sono state le mie passioni. La creazione di oggetti con la carta, la stoffa, tutte queste cose io le facevo tra una pausa e l'altra del mio lavoro di teatro per hobby ma a un certo punto diciamo che il desiderio di trasformare il mio hobby ha prevalso. Questo posto è proprio l'immagine di quella che sono. È stato molto faticoso cercare di capire tutti quei meccanismi che stanno dietro alla nascita di un'impresa. La prima cosa che ho fatto mi sono appoggiata al CNA che mi ha assolutamente supportato e indirizzato verso quello che mi stava per succedere. Mi hanno ordinato le mie cose da tutta Italia in varie tipologie di negozi dal design, alto design dei negozi di Milano, dalle erboristerie più chic di Torino, dai caffè letterari fino ad arrivare anche a Tokyo, in Germania, in Francia, in Slovenia. Io ho iniziato a produrre, a esportare e a spedire pacchi pieni di profuma biancheria a forma di pasticcino. Sono arrivata a lavorare per mesi anche 12-13 ore al giorno. Quindi quello che Rosso Cuore ha suscitato è stato l'interesse verso un'idea, quindi verso la creatività.